Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradaria regionale. I FIPILI per lavori all'altezza del turbone, coda di un chilometro, tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze, possibili disagi anche in carreggiata opposta. Uno sguardo al traffico ferroviario per un guasto temporaneo e gli impianti di circolazione tra Ronta e Borgo San Lorenzo, i treni regionali potranno subire ritardi e variazioni. Al momento sono coinvolti due treni regionali. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, fino al 16 luglio sono in corso lavori di asfaltatura in Piazza delle Cure, ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!